Napoli ha approvato il bilancio mentre molte altre città in Italia non hanno ancora fatto, lo faranno nel 30 novembre e quindi prima di esprimere un giudizio bisognerebbe vedere a conguaglio che cosa faranno anche le altre città. Le proteste dei sindacati probabilmente andrebbero indirizzate verso anche altre sedi, soprattutto il Governo nazionale che ha imposto, ha tagliato i trasferimenti ai comuni, ha imposto delle tassazioni molto elevate. Abbiamo salvato le società partecipate senza compromettere alcun posto di lavoro ed attenuato per le fasce più deboli gli effetti delle tasse imposte dal Governo. Il vice sindaco Tommaso Sodano e l'assessore al bilancio Salvatore Palma convocano i giornalisti in sala giunta per rispondere alla protesta delle organizzazioni sindacali avviata questa mattina con un sit-in davanti Palazzo San Giacomo. Al centro la manovra di bilancio recentemente approvata in Consiglio Comunale e sulla quale i due assessori hanno inteso fare chiarezza. Eravamo obbligati con l'accesso all'anticipazione prevista dal fondo di rotazione del decreto 174 avevamo l'obbligo di portare la leva fiscale al massimo. Abbiamo però abbassato moltissimo l'impatto della leva attraverso operazioni di esenzioni, mi riferisco per esempio l'addizionale IRPEF perché portando l'aliquota addizionale allo 0,8% abbiamo però previsto di fissare l'esenzione di reddito da 10.000 euro a 18.000 euro, quindi abbiamo fatto un'operazione importante, abbiamo protetto le fasce dei pensionati e dei precari, abbiamo fatto la stessa cosa con la TARES, che è una norma che ci impone di applicare a determinati coefficienti e noi tra il minimo e il massimo previsto ci siamo attestati al minimo. Con l'imposta di soggiorno abbiamo fatto un ottimo lavoro con gli albergatori, addirittura siamo riusciti a ridurre di 50 centesimi i 4 e i 3 stelle, che poi sono la maggioranza degli alberghi e delle strutture ricettive che sono sul territorio. Quindi sostanzialmente quello che viene annunciato come un salasso con i meccanismi che abbiamo inserito viene molto mitigato.